ciao ragazzi benvenuti questa sera faremo l'unboxing per quanto riguarda la settima uscita di cinemuseo per la linea art adesso ve la farò vedere subito ma prima di iniziare permettetemi concedetemi due cose innanzitutto un saluto veloce a una cara persona un amico che mi da quando praticamente ho aperto il canale che avevo dieci iscritti e lui si chiama jose rondelli perciò ciao jose ti saluto e grazie per 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 continuare a seguirmi grazie mille e ciao a presto e seconda cosa volevo dire attivate la campanella perché se in settimana ci sarà un super unboxing di un cofanetto che io definisco il santo graal delle limited ragazzi è qualcosa di straordinario questo cofanetto che ho già ho preordinato a ottobre man mano mi sono arrivati dei pezzi e proprio l'altro ieri mi è arrivato il pezzo finale che conclude il tutto e lo volevo fare subito ma siccome tanta roba lo devo veramente sviscerare in tutte le sue parti ve lo preparerò diciamo per l'inizio di settimana prossima perciò attivate la campanella e dopo quel questo video unboxing che ci sarà a ruota seguirà seguirà praticamente un altro video con tutti gli acquisti fatti nel mese di aprile le uscite sono veramente tante non so infatti se dividere il video in due parti benissimo ma adesso non ci pensiamo e andiamo avanti iniziamo con appunto la settima uscita della cinemuseum un cofanetto che racchiude una leggenda lui è insomma per tutti lo stallone italiano e per la settima uscita abbiamo la rocky collection ed eccola qui ragazzi straordinaria guardate la copertina con un effetto lenticolare bellissimo e abbiamo praticamente sulla parte frontale in primo piano rocky balboa lo stallone lo stallone italiano e poi tutti i suoi avversari nei praticamente nei sei capitoli della saga perché qui vengono esclusi naturalmente creed qui c'è rocky rocky 2 rocky 3 rocky 4 rocky 5 e rocky balboa perciò ragazzi guardate che bella da vicino qualcosa di fantastico un lavoro eccezionale anche la scritta poi abbiamo sul dorsale effetto lucido in rilievo scritto rocky collection vedete e qui per richiamare in tema la scritta cinemuseum con la bandiera a stelle strisce settima uscita cinemuseum art e dietro abbiamo rocky con le braccia innalzate verso il cielo una scena mitica quando lui durante l'allenamento che si sta preparando a combattimento sale le scale a filadelfia sale la famosa scalinata e urla e alza le braccia al cielo nel loro liberatorio fantastico ragazzi cosa dire di questa saga è qualcosa di magnifico ed è la saga insomma anche a chi non piace la box vedendo questi film lo apprezza tantissimo questo questo sport e poi stallone rende al meglio e con tutti i personaggi fantastica questa edizione limitata come al solito la cinemuseum è limitata in 350 pezzi e questa è la numero 267 vediamo se riesco a mettere a fuoco ecco qua 350 267 benissimo e vediamo che cosa contiene all'interno allora abbiamo la steelbook che è quella uscita già per il mercato italiano recentemente la steelbook che contiene i sei dischi l'unica cosa ma questa non è colpa di cinemuseum ma perché la steelbook è quella appunto per il mercato italiano ed è standard i dischi sono purtroppo impilati uno sull'altro i tre dischi praticamente sono mi sembra tre dischi da una parte e tre dall'altra esatto purtroppo ripeto questa non è una scelta di cinemuseum ma si è dovuta adeguare allo standard della steelbook mentre l'esclusività ed è quello che conta è questa e poi proprio per esclusività che cosa ha fatto ce ne usiamo come al solito ci delizia con le mitiche cartoline del film divise vedete Rocky Rocky 2 con la posta della presentazione Rocky Balboa contro Apollo Creed poi abbiamo Rocky 3 lo ricordate? Club Erlang Mr. T e poi questa ragazzi mi piace un sacco questa cartolina Rocky 4 con un Rocky Balboa che esegue sulla neve questa ripida questa praticamente questa montagna molto ripida e la montagna rappresentata da Ivan Drago proprio granitico il russo granitico e sul cielo rosso abbiamo la falce e il martello simbolo dell'Unione Sovietica è bellissima perché la montagna rappresentata e scolpita a somiglianza di Ivan Drago è bellissima ragazzi e poi abbiamo Rocky quinto capitolo e infine l'ultima cartolina che racchiude il cerchio Rocky Balboa con i guantoni appesi letteralmente come si suol dire al chiodo e queste erano le cartoline e poi di solito in queste linee qua ci viene dato un libricino ma questa volta Cinemuseo si è superata perché non ci ha dato un libricino ma bensì un vero e proprio libro che racchiude in immagini fotografiche tutta la saga dello stallone italiano Rocky Balboa e il libro si presenta con una prefazione come al solito in inglese e in italiano scritta a cura di Fabio Zanello e poi abbiamo si suddivide così vedete poster titolo del film in questo caso è il primo Rocky e le immagini del film e il libro prosegue così per tutti i capitoli della saga perciò è un viaggio nel tempo nella storia mitica del più grande pugile della storia del cinema Rocky Balboa questa saga è fantastica io non vedo l'ora di rivederla vedete andiamo avanti proseguiamo è fatta veramente bene perché è un libro fantastico e memorabile sono quasi 100 pagine e poi come ogni Cinemuseum che si rispetti abbiamo anche qua il gadget e anche in questo caso o meglio le aspettative sono andate oltre e Cinemuseum qua si è ancora di più superata non solo con la copertina fantastica non solo con il libro e le cartoline ma con il gadget qui abbiamo il sacchettino Cinemuseum Rocky Collection e all'interno c'è la replica che è anche stallone intorno al collo della catenina col guantone vediamo se riesco a a mettere a fuoco è fatto veramente bene ragazzi eccolo qua vedete il guantone fantastico un gadget bellissimo perciò si potrebbe anche indossare tranquillamente adesso qui io non lo apro perché è un po' stretto però è veramente qualcosa di magnifico un'edizione veramente stupenda e Cinemuseum annuncia sempre delle uscite fantastiche e memorabili e ricordate ottobre Terrifier che nel video precedente vi avevo fatto vi avevo lasciato direttamente il link per accedere al trailer doppiato direttamente in italiano e niente ragazzi questo video finisce qui spero che vi sia piaciuto e mi raccomando vi ricordo attivate la campanella per il super video unboxing dell'edizione delle edizioni il santo gra delle edizioni e poi video di aggiornamento con tutti gli acquisti ciao ragazzi grazie e buona serata grazie